Il culto dei morti Leggiamo il testo di riferimento Capitolo 9 del libro dell'Ecclesiaste Versetto 5, versetto 6 e versetto 10 Infatti i viventi sanno che moriranno Ma i morti non sanno nulla E per essi non c'è più salario Poiché la loro memoria è dimenticata Il loro amore, come il loro odio e la loro invidia Sono da lungo tempo periti Ed essi non hanno più Ne avranno mai alcuna parte In tutto quello che si fa sotto il sole Tutto quello che la tua mano trova da fare Fallo con tutte le tue forze Poiché nel soggiorno dei morti Dove vai? Non c'è più né lavoro Né pensiero Né scienza Né saggezza Sintesi dello studio Cari amici Il culto dei morti O degli antenati E' stata la componente essenziale Di tutte le religioni antiche Ma lo è ancora Delle popolazioni primitive attuali Del pianeta Oggi il terzo millennio Sumeri Babilonesi Egizi Ittiti Greci Romani Barbari Lo praticavano E le religioni dei primitivi Di oggi Ventunesimo secolo In Asia Africa Australia America Centro Meridionale Continuano a praticarlo ancora Come i loro antenati Purtroppo Chiesa Cattolica E Chiesa Ortodossa Basano Il loro credo Sul culto dei morti Chiaro retaggio Del paganesimo Antico E del paganesimo Moderno E se si toglie Al cattolicesimo E all'ortodossia Il culto dei morti Resta ben poco Cari amici Resta ben poco Il protestantesimo Non ha Il culto dei morti Ma è stato Anch'esso Pesantemente Influenzato In gran parte Dalla credenza Filosofica Dell'immortalità Naturale Dell'anima Voi vedete Che noi insistiamo Continuamente In ogni studio Su questo Dogma Basato Sulla filosofia Greca Pagana Il dogma Dell'immortalità Naturale Dell'anima La Bibbia Dice che l'anima Non è Immortale Lo può diventare Credendo in Cristo E ubbidendo Ai suoi insegnamenti Ma l'anima Dell'uomo Non è Immortale Per natura Questa è la credenza Filosofica Pagana Ma questo non lo dice Il Vangelo Non lo dice La Bibbia Quindi anche Il protestantesimo Disgraziatamente Pur non avendo Il culto Dei morti È stato Pesantemente Influenzato In gran parte Da questa credenza Filosofica Dell'immortalità Naturale Dell'anima Il sola Scrittura Di Lutero E degli altri Riformatori Che insistevano Sul rifiuto Delle tradizioni E sul ritorno Alle origini Avrebbe dovuto E dovrebbe Contemplare Anche questo Cioè Accettare In pieno Il sonno Biblico Dei morti E la loro Incoscienza Come dice La Bibbia È questa L'unica Barriera Contro Ogni forma Di idolatria Di una cristianità Vittima Della grande Apostasia Che con il culto Dei morti L'ha fatta Cadere Nelle peggiori Forme Del paganesimo Antico E del paganesimo Moderno La Bibbia Si esprime Con termini Umani E quando Riferendosi Ai morti Afferma Dormono Si riposano Sono nell'oblio Nel luogo Del silenzio Dell'incoscienza Significa La loro Assoluta Estraneità Alle cose Di questa vita E sono In attesa Del giudizio Fin qui La nostra sintesi La bugia Più vecchia Del mondo Cari amici La bugia Più vecchia Del mondo E più creduta Dall'umanità È quella Di credere Che quando Si muore In realtà Non si muore Perché l'anima Sopravvive Sente Ama Soffre Prega Vede Protegge I viventi Eccetera Eccetera La Bibbia Afferma Che i morti Non sanno Nulla Come abbiamo letto Nel nostro testo Di riferimento I morti Non sanno Nulla Filosofia E tradizione Dicono invece Che i morti Sanno tutto Anch'io Anch'io Quando ero bambino Credevo Questo Mi era stato Insegnato A pregare I morti E per i morti Ad accendere Candele Lumini Per loro Poi mia madre Mi aveva messo Al collo Una medaglietta Con le figie Di una celebre Madonna Seguivo Seguivo Gli interminabili Rosari Recitati Nelle sere Di estate E nelle sere D'inverno Poi Leggemmo la Bibbia E conoscemmo la verità Cioè Gesù E tutti i suoi insegnamenti E li accettammo E la nostra vita Cambiò Molti Ascoltano Gli insegnamenti Di Gesù Ma non li accettano Ma non basta Essere uditori Della parola di Dio Dice l'Epistola di Giacomo Dobbiamo essere facitori La nostra vita cambiò All'incertezza E soprattutto All'ignoranza Delle cose di Dio Alla paura Subentrò La conoscenza E la fede E questo è il miracolo Della Bibbia Creduta E accettata Però Come la guida Della vita E' stato il diavolo Cari amici Al principio A ingannare Eva Dicendole No Non morrete affatto Genesi capitolo 3 Versetto 4 Il Signore aveva permesso Alla coppia Adamo ed Eva Di mangiare Di tutti I frutti Di tutti gli alberi Del giardino Ma Disse Dei frutti Nei millenni Disgraziatamente Nelle chiese No Non morrete affatto Ecco Ma il Dio Vi ha detto questo Ecco il dubbio Insinuato da Satana Perché Se voi ne mangiate Diventate come lui Dio aveva detto Che l'infrazione Della legge Avrebbe avuto Come conseguenza La morte Satana dice il contrario Sarete come Dio Sarete come Dio Genesi capitolo 3 Versetto 5 Questa bugia Da allora Ha ingannato Migliardi di pagani E disgraziatamente Migliardi Di sedicenti cristiani Pregiudicando Il loro destino eterno Da questa bugia Deriva Il culto dei morti Che inganna E ubriaca l'uomo E non fa altro Che alimentare Il culto Della creatura O se volete Della personalità E così Che abbiamo Le chiese Le chiese cattoliche Piene di scheletri Esposti Si dice Alla pietà popolare Ma dove è finita La pietà E teschi E scheletri Si lucidano Nei secoli A forza di essere Toccati Prima che i fedeli Si segnino Le chiese Non devono esibire Segni di morte Ma segni di vita Lo ripeto Le chiese Non devono esibire Segni di morte Ma segni di vita I morti Vanno sepolti Il culto dei morti Sedicente cristiano Costituisce una grande Fonte di guadagno E certo E tutto finisce lì Candele Lumi Lampadine Messe di suffragio Santuari Preghiere per i morti E richieste di preghiere Ai morti Per i vivi Il tutto Il tutto Basato Sulla bugia Più vecchia Del mondo E creduta Per ignoranza Della Bibbia Da una parte O per contraffazione Della Bibbia Dall'altra Preghiere per i morti Preghiere per i morti Preghiere per i morti Il culto dei morti Chiamato Spiritismo Il culto dei morti Ha un altro aspetto Meno religioso Più culturale E diciamo Un po' Più scientifico E si chiama Spiritismo Pretende Di sapere E di essere Tutto Scienza Filosofia Religione E quant'altro Ma in realtà È l'antico culto Degli antenati Rivestito Di una patina Di modernità Anche lo spiritismo È basato Come no Sulla possibilità Di entrare In comunicazione Con gli spiriti Dei trapassati Cioè Ha per fondamento La credenza Filosofica Pagana Accettata Da secoli Praticamente Dalla maggior parte Delle chiese cristiane Della sopravvivenza Della sopravvivenza Dell'anima Dopo la morte Vedete come tutto è collegato Ma se noi accettassimo Quello che sta scritto nella Bibbia Che i morti Non sanno nulla Ma va tutto all'aria A carte 48 È il culto degli antenati Primitivi È il culto dei morti Nelle chiese cristiane È lo spiritismo E quant'altro mai Ma la gente legge E non crede E fa male Perché chi non crede Non può essere salvato Lo spiritismo moderno Come tutti sanno È nato negli Stati Uniti Nel 1848 Nello stato di New York Ma è l'edizione riveduta Della vecchia superstizione Insomma È il culto dei morti Con pretese scientifiche Alla veste scientifica Lo spiritismo Tiene moltissimo E si offende Se non si paragona Il culto degli antenati Sia degli antichi O dei primitivi moderni Io ho incontrato Parecchi spiritisti Che sono venuti Alle mie conferenze Dove trattavo Il tema dello spiritismo E della immortalità Non naturale Dell'anima Ma L'immortalità Condizionata Dalla fede in Cristo E dall'ubbidienza Ne ho incontrati tanti Devo dire Che sono stati Molto pazienti E mi hanno ascoltato Fino alla fine Ma io vedevo Sui loro volti L'ira L'indignazione Repressa Se avessero potuto Non so Cosa avrebbero fatto Di me Ma l'Evangelo Va Creduto Non soltanto Ascoltato Beati quelli Che leggono Beati quelli Che ascoltano E mettono in pratica Gli insegnamenti Della Bibbia Quindi Alla veste scientifica Lo spiritismo Tiene molto E non è scientifico Per niente E si offende Ripeto Se lo si paragona Al culto degli antenati Sia antichi Sia dei primitivi Moderni La Chiesa Cattolica Attenzione Attenzione La Chiesa Cattolica Condanna Lo spiritismo Non escludendo Anche Apparizioni Diaboliche Nelle sue sedute Ma guarda un po' Non escludendo Apparizioni Diaboliche Allora Fermiamoci Un momento Prima di continuare A parte i trucchi Che sono forse Il 50 Il 60 O l'80% Nello spiritismo Perché lì I trucchi Sono incalcolabili A parte i trucchi Ma c'è qualcosa Che appare C'è qualcosa Che appare E si fa fotografare Allora La Bibbia dice Che i morti Non sanno nulla Che non si può Comunicare Con loro La Bibbia dice questo Ripetutamente Come vedremo ancora Allora Se non sono i morti Se non sono i vivi Ecco perché dico Trucchi a parte Se non sono i vivi Chi sono Quelle figure Che appaiano E si fanno fotografare Qualche volta Parlano Se non sono i vivi Se non sono i morti Che non sanno niente Non possono essere i morti Chi sono? Sono gli angeli di Dio Ma scherzate? Gli angeli di Dio Che appaiono A comando Dopo tutto quello Che la Bibbia dice Ma quando gli angeli di Dio Appaiono Come quando sono apparsi Ai pastori Una luce Ha illuminato Tutte le montagne Circondanti Gerusalemme Gli angeli del Signore Quando appaiono Fanno svenire I poveri soldati romani Messi lì Alla custodia Del sepolcro di Cristo Gli angeli di Dio Andare nelle camere segrete In mezzo A tutta questa gente Lì Tremebonda Ma scherzate davvero Ma no E allora Allora sono i demoni Allora è il diavolo E qui la Chiesa Cattolica Contraria Allo spiritismo Dice Non escludendo Anche Apparizioni diaboliche Nelle sue sedute Ma sono apparizioni diaboliche E che ci vuole tanto Anche Ma sono solo Apparizioni diaboliche Perché i morti Non sanno nulla E poi cos'è sta storia Che premio un bottone Salta fuori Carlo Magno Salta fuori Napoleone Ma è una cosa da ridere Oltre che da farla brividire Per la loro stupidità Per la loro ignoranza Delle scritture Per la loro mancanza di fede Ma La condanna della Chiesa Cattolica Non è coerente No Non è coerente Perché il suo culto dei morti Si basa proprio sulla credenza Lo ripeto Per l'ennesima volta Sulla credenza Della sopravvivenza Dell'anima Dopo la morte In aperto contrasto Con l'insegnamento Della Bibbia Sembra quasi Sembra quasi La Chiesa Cattolica Sembra quasi Accusare lo spiritismo Di concorrenza sleale Rivendicando Anche qui Il suo monopolio Dell'esclusività La Chiesa Cattolica È molto gelosa Delle sue prerogative Dei suoi dogmi Sembra Che abbia paura Di concorrenza sleale Esiste uno spiritismo Per il mondo colto E raffinato E ce n'è un altro Un po' Alla buona Che è un po' Del volgare E del grottesco Lasciato Alla massa Lo spiritismo D'altronde Richiede A coloro Che vi si dedicano Una forte dose Di credulità Esso Costituisce Un anacronismo In un secolo Come il nostro Terzo millennio Che afferma Di essere guidato Dai principi Scientifici E razionali E si vede La Bibbia Condanna apertamente Il culto dei morti Sia quello praticato Dalle chiese cristiane Sia quello Delle religioni Pagane E sia quello Delle popolazioni Primitive Attuali Sia quello Praticato Dallo spiritismo Delle Anacronismo Pagane Di candidates E adesso veniamo all'insegnamento della Bibbia, che va ripetuto continuamente. Prima di tutto la Bibbia insegna che il culto, cioè l'adorazione, si deve solo a Dio, nostro Padre, nostro Creatore e Salvatore nostro in Cristo Gesù. Niente culto della creatura, né viva né morta. Gesù disse a Satana che lo invitava ad adorarlo. Vattene Satana, perché sta scritto adora il Signore e Dio tuo e a lui solo rendi il culto. Vattene Satana, perché sta scritto adora il Signore e Dio tuo e a lui solo rendi il culto. Matteo 4,10 E' inutile, cari amici, che la Chiesa Cattolica si difenda spiegando che venera, cioè celebra i morti, esalta i loro meriti. Tutti sanno che sono povere difese. Noi non abbiamo meriti come uomini e donne. I meriti sono solo di Cristo. Ecco il chiaro insegnamento della Bibbia sulla pretesa di un qualsiasi contatto con il mondo dei trapassati. Ascoltate bene per cortesia. Levitico 19,31 Non cercate in nessun modo di entrare in contatto con gli spiriti dei morti, perché questo vi renderebbe impuri. Erano messaggi per Israele, ma sono messaggi per ogni credente. Levitico 20,26 Se uno consulta in un modo o nell'altro gli spiriti dei morti, il che è una forma di idolatria, io interverrò contro di lui e lo escluderò dal popolo di Israele. Levitico 20,27 Se un uomo o una donna hanno l'abitudine di consultare per gli altri gli spiriti dei morti, devono essere messi a morte. Saranno uccisi a colpi di pietra. Essi solo saranno i responsabili della loro morte. Così si mettevano a morte gli spiritisti, quelli che evocavano ed evocano gli spiriti dei morti. La legge mosaica era molto severa. Ancora, Deuteronomio 18, da 10 a 12 Nessuno tra di voi bruci in sacrificio un figlio o una figlia. Nessuno pratichi la divinazione o cerchi di indovinare il futuro. Nessuno eserciti la magia, ne faccia incantesimi, o consulti spiriti e indovini. Nessuno cerchi di interrogare i morti. Chiunque fa queste cose è considerato dal Signore una vergogna. Culto dei morti, consultazione dei morti, magia, incantesimi. Per la Bibbia hanno una stessa e sola ed unica matrice, quella diabolica. A parte i trucchi, ripeto. E la Bibbia afferma che gli ultimi tempi saranno dominati dalle potenze del male sotto varie forme e che porteranno l'umanità alla catastrofe finale. Primo Timoteo 4.1 Lo spirito parla chiaro. Ci dice che negli ultimi tempi alcuni abbandoneranno la fede e seguiranno maestri di inganno e dottrine diaboliche. Apocalisse capitolo 16, versetto 13, 14 e 16 «E vivi uscire dalla bocca del dragone, da quella della bestia e da quella del falso profeta, tre spiriti immondi simili a Rane. Essi sono spiriti di demoni capaci di compiere dei miracoli. Essi vanno dai re di tutta la terra per radunarli per la battaglia del gran giorno del Dio onnipotente e radunarno i re nel luogo che in ebraico si chiama Armageddon». Quindi la Bibbia parla di una ripresa straordinaria delle forze del male, delle forze diaboliche, prima del ritorno di Cristo. Il culto della morte In realtà, cari amici, il culto dei morti, praticato dalle chiese cattoliche e da quella ortodossa, oltre che essere il proseguimento del culto degli antenati, dei pagani antichi e moderni, in realtà è il culto della morte, l'esaltazione della morte, con tutta l'esibizione di ossa di morti, di scheletri, di teschi nelle chiese. La celebrazione della morte, proprio in antitesi con la Bibbia che esalta la vita e la vita eterna. Gesù dice delle sue pecore, Giovanni 10,10, «Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Le parole che Dio disse all'antico Israele valgono per il credente di ogni tempo». Deuteronomio, capitolo 30, versetti 15, 16 e 19. «Vedi? Io metto davanti a te la vita e il bene, la morte e il male, poiché io ti comando oggi, io ti comando oggi, di amare il Signore, il tuo Dio, di camminare nelle sue vie, di osservare i suoi comandamenti, affinché tu viva. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita! Pare che le chiese che celebrano il culto dei loro morti, pare che queste chiese celebrano il culto della morte, scelgono la morte, non la vita! Giovanni 14,6 afferma, è Gesù che parla, «Io sono la via, la verità e la vita!» E poi ancora Giovanni 11,25 «Io sono la resurrezione e la vita!» Cristo è la luce e la pace! Satana è il principe delle tenebre, è il Signore della guerra e della morte! Centinaia di milioni di cristiani ingannati dal culto dei morti vivono una fede assolutamente negativa e il bagliore di milioni di candele e di lumini che accendono non riescono certo a infondere coraggio e speranza. La Bibbia continua a proclamare, Isaia, capitolo 8, versetto 19 «Non date ascolto a chi vi dice di consultare gli spiriti e gli indovini che bisbigliano e mormorano formule!» La gente dice «Dopotutto ogni popolo deve interrogare le sue divinità e consultare i suoi morti in favore dei vivi!» E versetto 20 «Voi invece dovete ascoltare quello che il Signore vi insegna se non ascoltate la sua parola non c'è speranza per voi!» Il profeta Isaia, parlando divinamente ispirato, si riferisce alle popolazioni antiche pagane che interrogavano i morti interrogavano i morti per sapere come sarebbe andato il futuro, gli affari, ecc. Si dice «Dopotutto ogni popolo deve interrogare le sue divinità e consultare i suoi morti in favore dei vivi!» E il Signore ripete «Ancora oggi con Isaia nella sua parola ispirata!» «Voi invece dovete ascoltare quello che il Signore vi insegna!» «Se non ascoltate la sua parola non c'è speranza per voi!» Cari amici, con l'aiuto del Signore decidiamo oggi di ascoltare solo ed esclusivamente la sua parola. Amen! Grazie per la visione!